nel famoso libro l'alchimista scritto dal brasiliano paolo coelho sembra si sta aprendo ogni mattina la rubrica culturale provvedo che a molti piaci quindi continuo io sono un grande lettore vabbè comunque detto questo nel nel libro l'alchimista il protagonista santiago è un giovane pastorello andaluso che alla ricerca di un tesoro sognato e quindi intraprende un viaggio avventuroso insieme tanto reale che simbolico che va al di là dello stretto di gibilterra attraversando poi tutto il deserto nordafricano che lo porterà all'egitto delle piramidi questo viaggio non è nient'altro che un'allegoria del percorso interiore che ciascuno di noi deve affrontare nell'arco della propria vita per raggiungere poi una propria maturità personale quindi lo spostamento fisico ogni singola tappa proprio del cammino non sono altro che proprio una trasposizione simbolica delle esperienze che noi affrontiamo nella nostra vita però il il vero tesoro cioè il significato che ci dà questo libro è che il luogo da dove inizia tutta la storia e poi anche il luogo dove si conclude quindi in tutto questo viaggio poi torniamo al punto da capo dove appunto nella chiesa di roccata dove si trovava questo pastorello andaluso lì si trovava il suo tesoro cioè ha fatto tanti giri però alla fine doveva tornare indietro era lì che c'era il suo tesoro e perché uno dice perché inizi con l'alchimista perché noi milanisti il tesoro ce l'abbiamo già in casa cioè noi andiamo a cercare a questa a quell'altro il nome che rimbomba altressionante e alla fine abbiamo già dei campioncini in essere come se fossero dei fiori di loto che stanno sbocciando e ieri ne abbiamo avuto l'ennesima conferma quindi oggi io mi soffermerò su questo e anche su il discorso dei giocatori che ce ne sono se non sbaglio un dodici dodici giocatori in prestito fanno il punto su milan live su chi va e chi resta e quindi fanno il punto della situazione in ogni caso iniziamo subito con un bel like di fiducia iscrizione se ancora non l'è fatta e grazie a tutti i nuovi le nuove iscritte e vai tribù rossoniera tribù di gente vera buongiorno e buona sei di giugno a tutti a tutti e bentornata e bentornato qui sul canale del marietto milanista dunque parliamo del tesoro perché qua stiamo parlando davvero di un tesoro impressionante per chi di voi ha avuto la fortuna come me ieri di vedere la finale dell'europeo under 17 tra Italia e Portogallo stravinta strameritata tre a zero dai nostri azzurrini ovviamente non può balzare non può non balzare all'occhio Camarda Camarda è stato eletto il miglior calciatore dell'europeo cinque partite quattro gol un assist e davvero dei gol ieri da bomber che ne parlavamo poi in un gruppo tra di noi anche del processo lunedì io dicevo mi sembrava il secondo gol che assomigliasse a un gol di rapina stile Pippo Inzaghi mentre il primo sembrava un gol alla Shevchenko una cosa molto strana cioè ha avuto tanto la classe di fare un gol esagerato il primo che ha fatto il secondo più di rapina che si è fatto trovare lì tintuntana e l'ha buttata l'era quindi cioè per arrivare a questo paragone cioè Shevchenko Inzaghi e ragazzi non è che uno lo abbutta lì Camarda è entrato a far parte del settore giovanile nel Milan nel 2015 cioè stiamo parlando di nove anni fa prelevato dalla aforese del quartiere di Afori che io conosco molto bene essendo di Bresso poi lì c'è la Comasina fuori Quartogiaro quindi cioè nasce da i campetti proprio di periferia era già un bomber dalle categorie giovanili si parla di più di 500 gol ha fatto nelle categorie giovanili cioè una roba fuori dal normale nelle pensate un po' nelle categorie delle under italiane nell'under 15 9 partite 6 gol under 16 7 partite 3 gol in area dei 17 16 partite 11 gol cioè se non arriva alla media di gol a partita se fate un bel calcolo è quasi un 0 7 0 8 quindi questo cioè ti segna quasi ti stampa quasi un gol a partita cioè gli europei cinque partite quattro gol con un assist cioè però è sempre là e in tutte le categorie è stato così e tra l'altro quest'anno per la prima volta anche è stato il più giovane esordiente nella storia della serie avendo esordito in massima serie proprio a 15 anni 8 mesi e 15 giorni quindi è un già un predestinato e giustamente il Milan se lo accaparra al di là di tutte le voci feicare del mainstream di questi mesi che addirittura l'assalto dell'Inter apprende lui è quale rosso nero nata anche in curva sud cioè non scherziamo proprio camarda è un tesoro che ci dobbiamo coccolare proteggere cioè è qualcosa di nostro milanista non bisogna minimamente fare lo scherzo cioè ecco se non vi volete mettere perché se io sono in una fase di attendismo ancora con la società cioè sono sapete quella situazione neutrale né sì né no sto osservando il tutto però se poi arriva il momento che questo ragazzo non continua colmina io ho già detto ieri nei gruppi privati questo lo devono rinnovare fino al 2044 cioè per altri 20 anni cioè noi abbiamo il patrimonio il 9 ce l'abbiamo già in casa sì ok ci sono ste voce zirc zi e moscito domic quell'altro del girona quest'anno che ha fatto benissimo qui nella liga spagnola c'è sempre i nomi gira si e sesco però ragazzi attenzione vi voglio portare un po' un ragionamento no ok non possiamo puntare subito su a mio avviso come il titolare subito io gli fare fare un passo intermedio adesso dipende anche sulla questione dell'ancona se alla fine si potrà iscrivere o meno il campione di serie c perché sennò il milan subito subentra quindi lì tanti ragazzi che eh si sono messi in mostra quest'anno con la primavera gli fare fare questo passo intermedio con l'under 23 serie c per poi approdare in eh prima squadra la tentazione c'è su camarda devo dirvi la verità però non 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 credo possa subito essere il centravanti da subito titolare quindi due opzioni o fargli fare questo che lui ha sempre bruciato categorie eh cioè ricordiamoci che quest'anno giocava con tre quattro anni più di lui cioè lui ha bruciato le tappe però non esageriamo perché è pur sempre un ragazzo di 16 anni dunque quello che dobbiamo fare a mio avviso è passo intermedio under 23 perlomeno una stagione così lì sui campi di serie c che so belli for comincia a farti anche l'uble maschto d'onte il ragazzo no e da lì puoi passarlo direttamente in prima squadra ciò non toglie che la tentazione c'è quindi il milan io non credo che debba puntare in questo momento a fare delle spese folli per arrivare magari ad attaccanti cioè zirzi io sono sempre l'idea che è meglio comprare un attaccante quindi anche quando dicevo i cardi a parte lukaku che a me non mi piace perché è un bollito già da più di due anni a parte i cardi che se devo dirvi la verità mi stimola e poi per età 30 31 anni è nel pieno della maturità ancora noi abbiamo preso girù a 35 quindi non non lo vedo fuori e poi ho sempre quel sogno di vederlo sotto la nord così è una cosa mia e come fece ronaldo quando venne al milano zirzi va bene ok cercherei comunque di comprare giocatori che siano a parte compatibili con il nuovo milan che bisognerà vedere ancora di chi cioè si dice fonseca poi adesso le ultime ore esce fuori anche il nome di allegri piuttosto che quindi arriva un momento che ragazzi cioè io finché non vedo ufficialità non mi metto a fare come certi giornalisti anche milanisti e bomba di qua bomba di là esilarante notizie ultimo ragazzi finché non vedete nero su bianco lasciate per e quindi tornando a noi anche mo allegri la casa gallarate quindi adesso tudor tudor attenzione ragazzi mettiamo anche sti nomi nei venti e rotti già messi mettiamo anche quelli allora camarda è una e uno e già penso l'abbiamo ben conosciuto ma un altro che è uscito fuori in questa euro in questo europeo è mattia liberali ragazzi mattia liberali il gol che aveva fatto contro cos'era l'inghilterra ditemi se mi sembrava era l'inghilterra nei quarti di era nei quarti forse contro l'inghilterra che ha fatto un gol a stile messi che se ne scartate cinque sei allora per chi vive il milan liberali non è una novità ragazzi cioè è un giocatore che ha dei numeri veramente pazzeschi è un dieci dieci fantasia i dieci che noi conosciamo i baggio i del piero è questo genere i dieci che cioè fa infiammare le folle e un altro che secondo me farà il passaggio che potrebbe già fare poi il passaggio all'under 23 l'anno prossimo se mai poi dovessimo essere iscritti alla serie c mattia liberali cioè anche lui è uno che nasce comunque eh dal vivaio del milan nell'ultima stagione tra l'altro con gnazio abate cioè quindici gol in trentanove presenze ehm stiamo parlando di un di un giocatore che il milan lo lo ha già blindato cioè gli ha già fatto fare eh il primo contratto da professionista e al milan da quando aveva sette anni un predestinato un altro che potrebbe diventare una bandiera del milan cioè noi dobbiamo puntare su questi tipi di giocatori ragazzi addirittura l'hanno paragonata cioè costacurta addirittura l'ha paragonata a Foden ma ci sta cioè noi abbiamo giocatori in rosa ragazzi come i Zeroli che già conosciamo i Simic i Bartesaghi i Sia i Jimenez ma abbiamo anche altri due che erano a questo europeo il portiere Alessandro Longoni ragazzi è un altro che è nato nel settore giovanile del Milan cioè ha militato nell'under 17 e praticamente ha portato la vittoria di categoria grazie anche alle sue pazzie cioè un portiere veramente è loco cioè ha mantenuto la porta inviolata per ben nove partite nel campionato e ha concesso solo 19 gol all'inizio poi nella squadra di Renna c'erano anche Sala che adesso andiamo anche da lui e Liberali ma ormai sono già in pianta stabile nella primavera così come è successo per Camarda ma Alessandro Longoni è un altro grande per il futuro un portiere veramente impressionante e infine Sala Sala è un centrocampista che ha fatto dei salti veramente impressionanti nel 22 si è proclamato anche campione d'Italia vincendo lo scudetto con l'under 15 del Milan in estate Ignazio Abate se l'è portato direttamente in primavera in pianta stabile e può ricoprire tutte le posizioni del centrocampo quest'anno ha fatto 15 presenze appunto con la primavera cioè ragazzi abbiamo era negli europei abbiamo dei giocatori che a volte ci pensano era il discorso del tesoro il tesoro abbiamo il tesoro ce l'abbiamo già in casa ragazzi io vengo da una città io vivo una città Barcellona che negli anni d'oro del Barça B della cantera la masia del Barça ha tirato fuori Xavi Hernández, Iniesta, Busche, Pique, Pujol, Vittor Valdés, Messi, Pedro giocatori che nel giro di 2-3 anni che sono poi passati in prima squadra hanno vinto tutto con Guardiola sono diventati anche campioni del mondo con la Spagna che non era mai riuscita la Spagna c'era il blocco Barça che veniva proprio dalle giovani del Barcellona hanno vinto poi due europei con la Spagna e in più Messi con gli anni è riuscito a consacrarsi vincendo quello che tanto gli mancava che era questo benedetto mondiale se tu lavori bene con la tua cantera, se tu lavori bene con il tuo settore giovanile il tesoro ce l'hai già in casa non devi andare a spendere tu te è cardinale non vuole spendere ma che non spenda e spanda cerchiamo di valorizzare quello che abbiamo ragazzi che ormai lo sentono nel cuore, nell'anima il Milan darebbero tutto e di più rispetto a tanti mercenari perché ormai il senso di appartenenza la maggior parte di loro sono tutti milanisti nel sangue quindi entrano in campo col sangue agli occhi e con la fame di poter emergere puntiamo su di loro puntiamo su di loro perché sono il nostro vero tesoro uno vuole sempre l'acquisto esotico l'acquisto straniero l'acquisto di qua l'acquisto di là ma se ce l'abbiamo già in casa perché dobbiamo fare come appunto l'alchimista ti 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 gira 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 quando già poi il tesoro ce l'ha in casa fammi sapere se sei d'accordo o no sì che ci vuoi bisogna puntellare comunque l'ho già detto su 3-4 giocatori per fargli fare il salto di qualità ma ragazzi qua si stiamo parlando di perlomeno 8-9 giocatori i Zeroli, Bartesaghi, Sia, Simic, Jimenez poi vi stavo dicendo Camarda, Sala Liberali lungoni in porto cioè stiamo parlando già di 9 giocatori che se non sono già pronti per fare il salto in Serie A una di due o gli fai andare subito se il Milan può partecipare a questo blocco nell'Under 23 fargli fare subito un anno di rodaggio e poi portarli in prima squadra fra due anni e man mano creare una struttura uno scheletro così come quando c'era i tempi che arrivò Berlusconi c'era già dietro una base con i Tassotti i Baresi i Filippo Galli i Maldini i Donadoni i Pietro Paolo Virdis gli Evani i Giovanni Galli cioè quando è arrivato Berlusconi e ha dato la squadra a Sacchi c'era già una squadra che veniva anche super ben allenata da Nils Lidom che sa chi si è trovato lì una formazione pronta che poi ha ovviamente mosso lui i fili e messo a posto le cose come voleva lui c'è stata solo l'aggiunta solo dei tre olandesi Raikard, Van Basten, Gullit prima Van Basten, Gullit l'anno dopo Raikard e Ancelotti punto questo dobbiamo fare creare questa struttura da sotto questa base da sotto prendere quei tre o quattro giocatori che ci farebbero fare ovviamente perché il Milan ragazzi a me ieri leggeo alcuni dicono però De Ketelar come falso 9 ma si vuoi pure prenderlo ma intanto San Siro ricordatevi due anni fa si è maturato ma è maturato in un contesto piccolo come era Bruges San Siro è un'altra cosa San Siro è la prima ti massacra e devi avere il carattere per giocare a San Siro quindi De Ketelar che tu mi dici cioè diventa il 9 titolare ma manco morto io voglio un 9 un bomber voglio un 9 De Ketelar per me non è un 9 lo vedo più come una seconda punta ma un 9-9 non lo vedo questa è la mia opinione ragazzi in ogni caso io volevo anche parlare del scusatemi del discorso dei 12 in prestito chi va chi viene e tutto quanto però sarebbe un discorso lungo e me lo tengo per il pomeriggio ne parliamo nel pomeriggio perché ci sono diverse situazioni che bisogna ancora mettere a punto poi nel pomeriggio vediamo se ci sarà anche la possibilità di ci saranno altre notizie e tutto intanto come avete visto io non sto neanche lì a leggere cioè avete visto sono già 3-4 giorni che sto evitando di entrare nei mezzi di distrazione di massa ma perché cioè se tu vedi capite la menzogna se uno vede già le prime pagine Milan su Lukaku e vi ricordate ieri mattina stamattina Zirzi sorpassa Lukaku ecco la corsa ostacoli delle fake news non gli voglio neanche dare più tanto peso in questo momento storico anche perché sappiamo che la fake news è dietro l'angolo in qualunque giornale in qualunque vostra trasmissione che voi seguiate io capisco che l'estate c'è questa voglia di chi arriva chi non arriva però fino a che vi fanno 4.000 nomi sapete che loro devono giocare su questa speranza per tenervi pigliati al loro amo ma poi la realtà è sempre un'altra quando c'è nero su bianco quindi lo stesso dicasi per l'allenatore Fonseca Fonseca ha lasciato l'Ile ragazzi finché non c'è nero su bianco non facciamo sempre queste ipotesi secondo me ma secondo me è una mia opinione io le mie opinioni ve le ho già espresse quello che avete ascoltato stamattina è già avrei dovuto capire per dove tiro il tesoro ce l'abbiamo in casa non c'è bisogno di fare degli stravolgimenti nella nostra rosa perché è una rosa che arriva al secondo posto dietro una squadra che è arrivata a 94 punti non è che puoi capisci devi aggiungere quei 3-4 elementi e basta però intanto da sotto spingere per il nostro tesoro interno dei nostri grandi giovanotti quindi fammi sapere in basso che cosa ne pensi noi ci risentiamo un prossimo appuntamento sempre qui sulla Tribù Rosso Nera non ti dimenticare del like dell'iscrizione delle condivisioni per far sì che arrivi a più persone e anche ricordati che ho altri due canali come ieri che avevo tirato fuori l'ennesimo scandalo di Gefferini Gefferini veramente io non ho più parole quindi è una tribù nel pallone saggezza popolare per detti e proverbi italiani mi raccomando con il mio taglio psicopedagogico io ti auguro davvero un felice giovedì un bacio all'amica e un forte abbraccio a tutti gli amici e sempre forza a Milano ovunque e comunque ciao